Nella provincia di Reggio Emilia si è verificato un terribile omicidio suicidio con il 66enne Gianni Dughetti che ha ucciso la madre, l'84enne Silvana Bucci. In casa sono stati rinvenuti i biglietti in cui Dughetti esprime il suo disagio e tenta di spiegare il gesto rivelando la volontà di porre fine alla propria vita. Secondo quanto si apprende, la madre era malata. Silvana, riduce da una permanenza in una RSA e vittima di un incidente stradale, non poteva più camminare. In maniera autonoma, il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero, Gaetano Pace, ha confermato la premeditazione di Dughetti attraverso scritti che indicavano il suo proposito. Il sindaco Enrico Ferretti ha espresso il desiderio che nessuno giudichi l'accaduto, definendo la tragedia di un colpo al cuore per la comunità. Dughetti, ex imprenditore edile celibe senza figli, era conosciuto a Cerverezza per aver fondato la LG Competition, società sportiva dedicata principalmente al basket giovanile. Allenatore di pallavolo ha contribuito alla crescita di numerose atlete, lasciando un'impronta positiva nella comunità. Il sindaco di Ventasso ha chiesto rispetto per la famiglia colpita da questo dramma, sottolineando la bontà e la solidarietà di Dughetti nel donare gioia e amore alla sua famiglia e alla comunità in cui operava.